Lutto per il famoso attore italiano Roberto Farnesi. L'attore pisano ha dovuto dire addio alla madre Maria Angela Saettini che si è spenta lo scorso 18 luglio. La notizia è stata pubblicata solo nelle scorse ore. La donna si è spenta esattamente il giorno prima del compleanno del figlio che ha compiuto 52 anni proprio il 19 luglio. Angela Saettini avrebbe compiuto 83 anni ad agosto e al momento non sono state chiarite le cause del decesso. Farnesi ha preferito rimanere in silenzio in questi giorni di dolore.